Una baby gang con tre minori su quattro a farne parte, affiatati, integrati e multietnici. Un italiano, un marocchino ed un rumeno tra i ragazzini terribili, un modicano, l'unico adulto ventenne. La notte di sabato avrebbero voluto razziare merce di vario tipo nel supermercato Desper di via Buonarroti a Ragusa. Organizzati e determinati, muniti di attrezzi per ogni evenienza. Hanno manomesso la telecamera di videosorveglianza, quindi hanno forzato l'ingresso e si sono introdotti all'interno. A questo punto una segnalazione alle forze dell'ordine da parte di qualcuno che ha saputo notare strani movimenti ha fatto affluire macchine della polizia e dei carabinieri, che hanno circondato l'edificio, bloccando ogni possibilità di uscita. Ma i giovani e agilissimi ladri sono riusciti a salire sul tetto e a tentare la fuga. Dopo un rocambolesco inseguimento sono stati bloccati e immobilizzati. I tre minori sono stati avviati in un centro di accoglienza, mentre il ventenne è ai domiciliari. Un furto è avvenuto inoltre durante la notte al punto SNAI di via Archimede a Ragusa. Secondo una prima ricostruzione, i malviventi sarebbero riusciti ad entrare all'interno del centro, che è dedicato alle scommesse, e avrebbero raggiunto le stanze più interne, dove sono temporaneamente depositati i soldi delle giocate.